ci sono temi di fortissimo interesse ma troppo terribili per essere oggetto di narrazioni il romantico puro deve evitarli se non vuole offendere disgustare i propri lettori ormai potranno essere trattati quando la solenne maestà del vero li santifica e sostiene noi fremiamo ad esempio con la più intensa volutà di dolore a sentir raccontare del passaggio della beresina del terremoto di lisbona o della pestilenza di londra o del massacro di san bartolomeo o del soffocamento dei 123 prigionieri del black hole di calcutta ma in questi racconti è il fatto è la realtà è la verità storica che commuove fossero invenzioni li troveremmo ripugnanti ho citato alcune delle più famose impressionanti calamità che si ricordino ma in esse più che il carattere in sé è la portata della disgrazia a colpire la nostra immaginazione non c'è bisogno che io faccia presente al lettore come nel lungo elenco fatale delle miserie umane avrai trovato da scegliere infiniti esempi di sofferenza individuale assai più veri che non quelli dei disastri collettivi la sventura più autentica il dolore più grande è particolare e dobbiamo ringraziare il dio misericordioso se l'estremo dell'orrore è toccato dall'uomo in quanto individuo e non in quanto massa essere sepolto vivo è senza dubbio l'estremità più paurosa in cui possa incorrere il mortale che sia accaduto sovente spessissimo nessuno che rifletta può negarlo i limiti che dividono la vita dalla morte sono vaghi e confusi non si può dire dove finisca l'una e cominci l'altra sappiamo come vi siano malattie che possano portare a un arresto totale di tutte le apparenti funzioni della vita arresto che però è momentaneo è solo come propriamente si dice una sospensione una pausa dell'incomprensibile meccanismo trascorso un certo tempo ecco un misterioso e invisibile principio rimettere in moto i magici ingranaggi e le ruote la corda d'argento non sarà sciolta per sempre il vaso d'oro non era irreparabilmente rotto ma intanto dov'era andata l'anima a parte l'inevitabile considerazione apriolistica che determinate cause devono portare a determinati effetti e che da coteste sospensioni della vita deve per forza risultare di quando in quando qualche seppellimento prematuro a parte ciò dico abbiamo la testimonianza diretta di medici e di non medici a dimostrarci di come di seppellimenti del genere ce ne siano stati parecchi potrei citare se fosse necessario centinaia di esempi uno più attendibile dell'altro uno molto notevole il ricordo del quale può ancora essere fresco nella mente di alcuni dei miei lettori si è verificato or non è molto proprio nella vicina baltimore dove produssa intensa e universale commozione la moglie di uno dei cittadini più noti un eminente avvocato membro del congresso fu colta all'improvviso da un inesplicabile male che eludeva tutte le capacità dei medici dopo molto patire essa morì così almeno parve nessuno sospettò ne aveva ragione di sospettarlo che potesse non essere realmente morta essa presentava tutte le consuete apparenze della morte la faccia come sempre si era affilata i lineamenti scavati le labbra si erano fatte pallide di marmo gli occhi avevano perso ogni lucentezza il calore era scomparso le pulsazioni erano cessate si aspettò tre giorni a seppellire il corpo e in questo tempo essa acquistò una rigidezza di pietra per cui nel timore di una rapida decomposizione si affrettò il funerale la signora fu deposta nella tomba di famiglia che non venne più aperta se non dopo tre anni per installarvi un sarcofago quale terribile colpo aspettava il marito che personalmente aprì la porta come i battenti si dischiusero qualche cosa di bianco gli si sbatté con strepito tra le braccia era lo scheletro di sua moglie ravvolto nel sudario ancora intatto in seguito ad accurate ricerche risultò evidente che la signora era ressuscitata dopo l'inumazione che per gli sforzi fa aveva provocato la caduta della bara dalla nicchia a terra che la bara si era rotta e lei era uscita una lampada dimenticata piena d'olio dentro la tomba fu trovata vuota ma poteva essersi svuotata per effetto dell'evaporazione sul gradino più alto della scala che metteva nella camera sepulcrale fu trovato un frammento della bara col quale pareva che la donna avesse tentato di richiamare l'attenzione battendo alla porta di ferro doveva essere svenuta nell'occuparsi di ciò o morta forse per puro terrore e il sudario nella caduta doveva essersi impigliato a qualche intaglio di ferro così era rimasta e così si era putrefatta in piedi nell'anno 1810 un caso di inumazione di una persona vivente avvenne in Francia in circostanze che provano ancora una volta come la realtà sia davvero più strana dell'invenzione l'eroina della storia fu una certa mademoiselle Victorine Lefourcade una giovanetta di famiglia illustre ricca e di grande bellezza fra i tanti che la corteggiavano c'era un certo Julien Bousset un povero letterato giornalista che fosse di Parigi cui l'ingegno e l'amabile carattere avevano valso l'attenzione dell'erede che sembrava lo amasse sinceramente ma orgogliosa com'era della sua nascita ella si decise a respingerlo e sposare un certo messiere Nel banchiere diplomatico di qualche merito potesto signore però una volta che l'ebbe sposata si mise a trascurarla a maltrattarla forse anche a maltrattarla forse anche con lui ella condusse alcuni anni di misera vita infine morì almeno pareva morta tanto da ingannare chiunque la vide venne sepolta anziché in un'eclipta in una fossa ordinaria del suo villaggio natale disperato e ancora ardente del ricordo della sua profonda passione per lei innamorato si reca dalla capitale nella remota provincia dove è il villaggio col romantico proposito di dissotterrare il corpo e impadronirsi della sua ricca chioma trova la tomba e quando è mezzanotte dissotterra la bara l'apre ed ecco mentre va a recidere i capelli vede schiudersi gli occhi della sua amata ella era stata sotterrata viva la vita non l'aveva ancora lasciata del tutto e le carezze dell'innamorato l'avevano adesso svegliata dal letargo per il quale era stata creduta morta come pazzo egli la portò nella propria camera nel villaggio per rianimarla si valse di potenti cordiali che la sua discreta esperienza medica gli suggerirono infine la donna tornò del tutto alla vita riconobbe il suo salvatore e con lui rimase fino a che non ebbe a poco a poco recuperato la salute di prima il suo cuore di donna non era di acciaio e quella lezione d'amore bastò ad intenerirlo e lei lo affidò a Bussè non ritorno più da suo marito cui nascose la propria resurrezione e scappò in america con l'amante venti anni dopo i due tornarono in francia sicuri che il tempo avesse cambiato abbastanza l'aspetto della signora per non essere riconosciuta dai suoi amici ma si ingannavano al primo incontro messier renel riconobbe sua moglie e pretese di riprenderla con sé naturalmente lei resistette e un tribunale giudiziario sostenne le sue ragioni sentenziando scaduta anche legalmente per le particolari circostanze il lungo intervallo di tempo necessario l'autorità del marito il giornale chirurgico di Lipsia autorevole pubblicazione di grande valore che qualche editore americano farebbe bene a ripubblicare tradotto riferisce in uno degli ultimi numeri un terribile caso del genere un ufficiale di artiglieria uomo di statura gigantesca di ferrea salute gettato a terra da un cavallo bizzarro era rimasto ferito piuttosto gravemente alla testa tanto da perdere i sensi sul colpo ma sebbene il cranio presentasse una leggera frattura non c'era da temere nessun pericolo immediato la trapanazione venne compiuta con successo e si fece anche un salasso insomma si ricorse a tutte le cure del caso non di meno le condizioni dell'ufficiale divennero sempre più disperate ed egli cadde in uno stato comatoso e infine fu giudicato morto siccome faceva caldo lo seppellirono con fretta spudorata in uno dei cimiteri pubblici fu di giovedì la domenica seguente il cimitero come al solito si affollò di visitatori e verso mezzogiorno si produceva un'intensa emozione fra la folla per la dichiarazione di un contadino che diceva di aver sentito distintamente mentre sedeva sopra la tomba dell'ufficiale un movimento della terra come se qualcuno vi si dibattesse dentro da prima non si prestò molta attenzione a quanto l'uomo asseriva ma il suo terrore evidente e l'accanimento con il quale si sosteneva il suo dire ebbero infine sulla folla il loro effetto naturale trovate tosto delle vanghe la fossa che per ignominiosa trascuratezza era poco profonda venne in due o tre minuti liberata dalla terra e la testa del defunto apparve egli aveva l'aspetto di un morto ma stava quasi a sedere dentro la sua bara della quale nei suoi sforzi furiosi era riuscito a sollevare in parte il coperchio portato sull'istante all'ospedale più vicino fu trovato ancora in vita per quanto in stato di asfissia alcune ore dopo egli tornava in sé riconosceva certe persone di conoscenza e parlava loro a frasi sconnesse dei tormenti sofferti nella tomba da quanto disse risultò chiaro che doveva essere stato per più di un'ora in perfetta coscienza sotto terra la fossa era stata negligentemente colmata di una terra molto porosa per cui era inevitabile che filtrasse un po' d'aria egli aveva sentito i passi della folla su di sé e aveva cercato di farsi sentire a sua volta sembrava fosse stato appunto il rumore della folla a svegliarlo dal suo sonno profondo e non appena sveglio egli si era reso subito conto della situazione orribile in cui si trovava di lui si racconta ancora che andava migliorando e che ci sarebbe come sembrava rimesso del tutto se non lo avessero sacrificato alla ciarlataneria di un esperimento medico gli applicarono la batteria galvanica per cui all'improvviso aspirava in una di quelle crisi estatiche che tale applicazione alle volte produce a proposito della batteria galvanica mi viene in mente lo straordinario caso rimasto famoso di un giovane avvocato londinese che si riuscì appunto per l'azione della batteria a restituire a vita dopo due giorni che era stato sotterrato accadde nel 1813 e fece allora dovunque se ne parlò un'impressione profonda il paziente mister edward stepleton era morto a quanto pareva di febbre tifoidea accompagnata da certi sintomi anormali che avevano eccitato la curiosità dei medici curanti in seguito al presunto decesso si chiese l'autorizzazione di un esame post-mortem agli amici del defunto i quali la rifiutarono come spesso succede in questi casi di rifiuto i medici decisero di far esumare ugualmente il cadavere e di sezionarlo a loro agio in privato fu loro facile intendersi con una delle tante associazioni di trafugatori di cadaveri che abbondano a Londra e la terza notte dopo il funerale il presunto cadavere venne esumato da una fossa profonda a otto piedi e portato nella sala operatoria di una clinica privata un'incisione di una certa lunghezza era già stata praticata nell'addome quando le fresche ancora intatte condizioni del soggetto suggerirono un'applicazione della batteria un esperimento seguì l'altro e i soliti effetti si produssero senza che nulla li caratterizzasse tranne per un paio di volte una maggiore apparenza di vita nei movimenti convulsivi si faceva tardi stava per spuntare il giorno perciò si giudicò necessario procedere senza altro alla dissezione uno studente però particolarmente interessato a provare una sua teoria insistette perché si applicasse la batteria a uno dei muscoli pettorali si praticò una rude incisione e un filo elettrico venne messo alla svelta in contatto ed ecco che il paziente con un rapido e tranquillo movimento non convulsivo si alzò dalla tavola discese a camminare in mezzo alla stanza e guardatosi intorno con aria inquieta per qualche istante si mise a parlare disse qualcosa di inintellegibile ma si trattava di vere e proprie parole sillabate distintamente dopodiché cadde pesantemente al suolo per qualche momento tutti rimasero paralizzati dal terrore ma l'urgenza del caso restituì loro ben presto la presenza di spirito era chiaro che mister stepleton viveva e che era soltanto svenuto una applicazione di ettere lo fece di fatti tornare in sé e in breve riacquistata la salute egli venne reso ai suoi amici per cui fino a quando non ci fu più da temere una ricaduta si tenne nascosta la resurrezione si immagini quale meraviglia quale entusiasta meraviglia dovette essere la loro ma quello che di più sensazionale c'è nell'avventura è dato da quanto afferma mister stepleton stesso egli afferma di non essere mai stato neanche per un secondo completamente insensibile e di aver sempre avuto sia pur vaga e confusa la coscienza di tutto quello che gli accadeva dal momento in cui i suoi medici lo dichiararono morto a quello in cui si abbatteva svenuto sul pavimento dell'ospedale io sono vivo erano state le parole incomprese che gli aveva cercato di pronunziare in quella estremità accorgendoci di trovarsi nella sala anatomica sarebbe facile andare avanti con queste storie ma io me ne astengo perché non è necessario a stabilire che disseppellimenti prematuri ne accadono se poi riflettiamo come sia raro per la natura del caso che si riesca a scoprirli dobbiamo ammettere che possono anche accadere spesso senza che poi se ne sappia nulla è raro infatti che per una ragione o per un'altra si demolisca un cimitero senza trovare degli scheletri in posizioni che destano gravi sospetti terribile davvero il sospetto ma più terribile il destino senza esitazione si può affermare che non c'è nulla che più terribilmente possa ispirare tanta suprema disperazione fisica e morale quanto un seppellimento prematuro l'oppressione intollerabile dei polmoni le esalazioni soffocanti della terra bagnata il contatto delle vesti funebri il rigido abbraccio della stretta prigione l'oscurità della notte assoluta il silenzio che sommerge come un mare la invisibile però sensibile presenza del verme conquistatore tutto questo unito al pensiero dell'aria e del verde che sono sopra e dei cari amici che accorrerebbero a salvarci se sapessero del nostro fato mentre si sa bene che non potranno essere mai informati e che il nostro destino senza speranza è quello di un morto veramente morto tutto questo dico porta dentro il cuore che ancora batte un orrore grande come la più audace fantasia non può immaginare nulla conosciamo di così straziante sulla terra nulla di così orrido possiamo immaginare del più profondo inferno e per questo tutto ciò che si racconta in proposito desta il più vivo interesse interesse però che attraverso il sacro terrore dell'argomento stesso dipende specialmente ed essenzialmente dalla convinzione che il caso raccontato sia vero quello che ora sto per raccontare lo so di mio voglio dire di mia personale esperienza durante parecchi anni sono stato soggetto agli accessi di quella speciale malattia dai medici in mancanza di un nome più adatto chiamata catalessi per quanto le cause immediate predispositorie di questa malattia nonché la sua stessa diagnosi siano ancora un mistero il carattere che essa riveste viene sufficientemente compreso a quanto pare non presenta varietà che di grado alle volte il paziente resta solo per un giorno e anche per meno in una specie di letargo perde i sensi si irrigidisce ma il suo cuore seppure debolmente pulsa sempre un po' di calore è rimasto le sue guance non sono del tutto scolorite e se gli si applica uno specchio alle labbra si può notare una certa azione dei polmoni torpida ineguale e vacillante altre volte la crisi dura delle settimane dei mesi perfino e la più rigorosa la più minuziosa indagine medica non riesce allora a trovare una pur minima distinzione materiale tra lo stato del paziente e quello stato che noi consideriamo di morte assoluta di solito il malato si sottrae a un seppellimento prematuro solo per via dei suoi amici che sanno come altre volte sia stato colpito da catalessi e di conseguenza anche perché manca ogni sintomo di decomposizione stanno in sospetto il male per fortuna progredisce gradualmente per quanto forti possono essere le prime manifestazioni non danno mai luogo ad equivoci gli attacchi diventano successivamente sempre più distinti e più lunghi ed è in questo fatto la principale salvaguardia contro l'inumazione lo sfortunato il cui primo attacco rivestisse i caratteri estremi come talvolta è successo sarebbe quasi inevitabilmente consegnato vivo alla tomba il mio caso non differiva in niente da quelli che le opere mediche vanno citando senza alcuna causa apparente io cadevo a poco a poco in uno stato di semi stupore o semi svenimento che dir si voglia e rimanevo in tale stato senza avvertire dolore incapace di muovermi e di pensare ma conservando una vaga coscienza letargica di vita che mi faceva sentire la presenza di quanti si trovavano intorno al mio letto fino a che il sopraggiungere della crisi mi restituiva a un tratto il possesso completo dei sensi altre volte venivo colpito con improvvisa rapidità cominciavo a sentirmi male mi veniva freddo mi girava la testa ed un colpo era abbattuto allora per intere settimane non c'era che vuoto e buio per me vuoto buio e silenzio dell'universo evaporato in nulla non avrebbe potuto esserci un annientamento più totale e quanto più rapidamente ero stato colpito tanto più mi svegliavo lentamente con la stessa lentezza che al mendicante senza amici né casa in giro per le strade durante una lunga desolata notte d'inverno appare la luce del giorno con la stessa lentezza e altrettanto desiata ritornava in me la luce della mente a parte questo la mia salute generale sembrava ottima e io non potevo rendermi conto se effettivamente ero sotto il dominio di una malattia a meno di considerare come effetto di essa una certa idiosincrasia del mio sonno quotidiano svegliandomi io non riuscivo mai ad acquistare subito il possesso completo dei sensi e per diversi minuti rimanevo tutto perplesso e sorpreso con le facoltà mentali e specie la memoria in assoluta inerzia non provavo nessuna sofferenza fisica ma un senso infinito di miseria morale e la mia immaginazione si riempiva di cose lugubri e non parlavo che di vermi di tombe di pitaffi mi perdevo in sogni di morte e l'idea di essere sepolto prima del tempo non mi usciva dalla mente il sinistro pericolo al quale ero esposto mi opprimeva di continuo il giorno e la notte e se durante il giorno era una tortura di notte diventava tortura estrema non appena l'oscurità si stendeva lugubre sulla terra io tremavo all'orribile pensiero tremavo come le ondulanti piume di un carro funebre e quando la natura non mi consentiva più di restare sveglio era con uno sforzo che io mi risolvevo a dormire nel timore agghiacciante di potermi ridestare dentro una tomba e come infine mi lasciavo andare al sonno mi trovavo precipitato in un mondo di fantasmi che l'idea del sepolcro copriva tutto con l'ombra delle sue immense ali oscure di tutti quegli incubi paurosi non ricorderò che una sola visione mi pareva di essere stato colto da un attacco più lungo e profondo del solito e che tutta ad un tratto una mano gelata posasse sulla mia fronte mentre una voce indistinta e affrettata mi sussurrava all'orecchio alzati così io mi levavo a sedere l'oscurità era completa e non potevo vedere chi mi aveva svegliato non mi ricordavo né del momento nel quale ero caduto in trance né del luogo dove allora mi trovavo mentre fermo mi sforzavo di riordinare i miei pensieri la ghiaccia a mano mi afferrava con violenza per un polso e me lo scuoteva più riprese mentre l'inintellegibile voce ripeteva alzati non ti ho ordinato di alzarti e chi sei tu domandavo io non ho nome nelle regioni che abito mi rispondeva la voce lugubremente fui una volta un mortale ma ora un demone sono non avevo pietà una volta ora ne sono pieno senti che tremo tutto battono i miei denti come parlo e non è per il freddo della notte di questa notte che non ha fine è per questo orrore insopportabile e tu come puoi dormire tranquillamente io non posso il crido delle grandi sofferenze non mi lascia riposare è più forte di me alzati alzati vieni fuori con me nella notte perché ti mostri le tombe guarda non è uno spettacolo pietoso guardavo e l'invisibile che mi teneva per il polso aveva fatto sì che tutte le tombe del genere umano fossero spalancate ed ecco da ciascuna di esse usciva la lieve fiamma fosforica della decomposizione tanto che si poteva guardare sino a dentro i recessi e vedervi i corpi nella solenne tristezza del loro eterno sonno in compagnia dei vermi ma ahimè quelli che davvero dormivano erano meno milioni e milioni meno di quelli che non dormivano affatto e c'era un agitarsi sommesso una dolorosa inquietudine dappertutto e un lugubre fruscio di sudari e tra quelli che sembravano riposare tranquillamente molti se ne vedevano che avevano cambiato chi più chi meno la rigida ed incomoda posizione nella quale erano stati sepolti e intanto che guardavo la voce ripeteva ancora non è uno spettacolo pietoso ma prima che mi riuscisse di rispondergli l'invisibile aveva smesso di tenermi le luci fosforiche si erano spente e le tombe si erano tutto ad un tratto violentemente richiuse mentre un tumulto di grida disperate si levava da esse oddio eccheggiando non è uno spettacolo pietoso coteste fantasie notturne finirono per estendere anche alle ore in cui ero sveglio il loro terrifico influsso i miei nervi ne furono scossi e divenne predo di un terrore perpetuo non osavo più andare a cavallo né camminare né comunque permettermi un qualsiasi esercizio che mi portasse fuori di casa non osavo insomma sottrarmi alla presenza di quanti sapevano la mia disposizione alla catalessi per paura di essere colto da un attacco lontano da loro e venire sotterrato prima che si fosse accertato il mio stato reale d'altra parte dubitavo degli stessi miei più cari amici temevo che durante qualche trance più lunga del solito non avessero considerarmi perduto e arrivai al punto di pensare che dato il disturbo che io cagionavo loro potevano anche prendere la scuola di un attacco troppo prolungato per sbarazzarsi di me e in vano si sforzarono di rassicurarmi con le più solenni promesse feci giurar loro di non lasciarmi per nessuna circostanza sotterrare se prima la decomposizione non avesse reso impossibile una ulteriore conservazione del mio corpo e neanche così i miei terrori mortali cedettero neanche così riuscii a trovare sollievo mi cacciai allora in un ginebraio di precauzioni fra l'altro feci apportare alla mia tomba di famiglia delle modifiche che permettessero di prontamente aprirla dall'interno a una minima pressione su una lunga leva che si partiva dal fondo della tomba i battenti di ferro della porta si sarebbero senz'altro spalancati avevo pensato inoltre a preparare dei passaggi per l'aria e la luce e dei ripostigli per il cibo e l'acqua a immediata portata di mano questi nella bara che doveva ricevermi la bara poi l'avevo fatta imbottire in modo da renderla calda e soffice e provvedere di un coperchio costruito con lo stesso principio usato per la porta della cripta munito inoltre di molle che al minimo movimento dall'interno l'avrebbero lasciato cadere avevo infine fatto appendere al soffitto della tomba una grossa campana la corda della quale doveva passare per un buco nella bara ed essere legata ad una mano del morto ma ahimè che può la circospezione contro il destino dell'uomo tutti questi congegni di sicurezza non bastarono a salvarmi dall'angoscia suprema del sepolto vivo ora ecco una volta come era già successo infinite volte prima che dalla totale incoscienza mi ridesto a un vago indistinto senso di esistere lentamente con lentezza da tartaruga ritrovavo la grigia alba della coscienza nella mia mente un tepore l'impressione apatica di un sordo dolore e l'animo vuoto di speranza di tensione di indifferenza assoluta quindi trascorso un lungo intervallo un ronzio negli orecchi e dopo un ancora più lungo intervallo come un prurito o meglio un formicolio alle estremità poi un senso di piacevole riposo che mi parve eterno e il travaglio delle sensazioni nascenti che diventavano pensiero una momentanea ricaduta nell'incoscienza e il repentino riavermi infine dopo un leggero tremito delle palpebre la scossa elettrica di un infinito terrore mortale mi fece affluire il sangue dalle tempi al cuore ed ecco il primo effettivo sforzo di pensare di ricordare successo parziale e momentaneo ma la memoria aveva riacquistato la sua efficienza ed io potevo già in qualche modo rendermi conto del mio stato sentivo di non svegliarmi da un sonno ordinario capivo di essere stato colto da un attacco di catalessi e il mio animo trepidante fu sommerso come dall'irrompere di un oceano dall'idea spettrale che su ogni altra prevaleva del sinistro pericolo supremo rimasi per qualche minuto dopo che questa idea mi si fu presentata senza fare il più piccolo movimento non avevo il coraggio di muovermi non osavo compiere lo sforzo necessario per rendermi conto del mio destino eppure qualcosa dentro al cuore mi diceva che era vero la disperazione la disperazione quale nessun'altra specie di sventura può ispirare soltanto la disperazione mi spinse dopo lunga incertezza a sollevare le pesanti palpebre dei miei occhi era buio tutto buio sapevo che l'attacco era passato che la crisi era finita da un pezzo sapevo di aver riacquistato completamente l'uso delle mie facoltà visive e non di meno era buio tutto buio era l'intensa e assoluta mancanza di luce della notte che dura in eterno cercai di gridare le mie labbra e la mia lingua secca si contrassero convulse nello sforzo ma dai polmoni sui quali mi sentivo pesare una montagna e che ad ognuna delle mie difficili e travagliate ispirazioni ansimavano palpitanti insieme al cuore non uscì nessuna voce il tormento delle macelle nello sforzo di gridare mi dimostrò che avevo il volto fasciato come di solito lo si fascia ai morti sentì anche di essere disteso su qualcosa di duro e che qualcosa di altrettanto solido mi serrava ai fianchi ancora non avevo osato muovere un dito e fu d'impeto che alzai le braccia rimasti a lungo ferme con le mani incrociate e con esse diedi di cozzo a una sostanza legnosa che si estendeva su di me a non più di sei pollici dalla mia faccia non potevo più dubitare di trovarmi dentro una bara ma ecco in tanta sventura farsi dolcemente strada angelica la speranza siccome mi ero ricordato delle precauzioni prese e mi tolsi tutto spasmodicamente mi agitai per aprire il coperchio ma quello tenne duro mi cercai ai polsi la corda della campana e non trovai nulla così la speranza mi lasciò per sempre e una terribile disperazione mi prese perché mi accorsi che la bara nella quale giacevo era priva delle imbottiture che mi ero preparato con tanta cura e poi perché mi era d'improvviso giunto alle narici l'acuto odore tutto speciale della terra bagnata la conclusione era irrefutabile io non mi trovavo nella cripta ero caduta in trance lontano da casa fra estranei dove in qualche modo non ricordavo e codesti estranei mi avevano seppellito come un cane mi avevano inchiodato dentro una bara comune e conficcato profondo nella terra per sempre in qualche profonda fossa senza nome come codesta atroce convinzione mi penetrosi nelle più segrete fibre dell'animo cercai un'altra volta con tutte le mie forze di gridare e vi riuscii selvaggio e continuo un grido un urlo un urlo di disperazione risuonò a lungo per i regni della notte sotterranea ehi ehi laggiù fece una voce burbera in risposta che diavolo succede adesso aggiunse un'altra mettetele dunque disse una terza che ci avete da urlare a quel modo da gatto pardo disse una quarta e venne afferrato e senza tante cerimonie scosso per parecchi minuti da una masnada di individui di rozzo aspetto non fu un risveglio perché ero perfettamente desto quando gridai però ritornai nel pieno possesso della memoria la cosa successe vicino a Richmond in Virginia andando a caccia con un amico mi ero spinto per alcune miglia lungo le rive del fiume James al cadere della notte ci aveva sorpreso un temporale non avevamo potuto trovare altro riparo che la cabina di un piccolo sloop che si trovava all'ancora nel fiume carico di terriccia da giardino arrangiandoci alla meglio si era deciso di passare la notte a bordo ed io mi ero messo a dormire in una delle due cuccette del battello non c'è bisogno che io descriva le cuccette di uno sloop di sessanta o settanta tonnellate quella che occupavo io era priva di materasso e di coperte e misurava in larghezza non più di diciotto pollici di diciotto pollici era anche lo spazio tra la cucetta e il ponte sovrastante mi era stato difficilissimo a infilarmici avevo però dormito profondamente e quanto avevo provato al risveglio poiché non si era trattato di un sogno né di un incubo doveva essere attribuito alle circostanze della mia posizione al corso ordinario dei miei pensieri e alle difficoltà cui ho già accennato di recuperare i sensi e specialmente la memoria ogni volta che uscivo dal sonno gli uomini che mi avevano scosso erano marinai dello sloop ed operai che si trovavano lì per lo scarico l'odore di terra proveniva dal calico stesso e quanto alla benda che mi facciava le gote si trattava di un fazzoletto di seta nel quale in mancanza del mio solito berretto da notte mi ero avvolto il capo e però quello che avevo sofferto era stato in tutto uguale senza dubbio per il tempo che era durato all'angoscia di un sepolto vivo spaventoso era stato inconcepibilmente spaventoso ed orribile ma dal male nacque un bene perché tanto orrore non poteva non provocare la reazione nel mio spirito ne ebbi l'anima fortificata e ritemprata andai all'estero feci molto esercizio respirai l'aria libera del cielo pensai ad altro misi da parte i libri di medicina bruciai Buchan non lessi più night trucks né filastrocche sui cimiteri né storie spauracchio come la presente divenne un uomo nuovo e vissi da uomo dopo quella memorabile notte mandai al diavolo per sempre le mie apprensioni con esse scomparvero anche i disturbi catalettici dei quali forse erano state proprio la causa anziché la conseguenza vi sono momenti in cui anche all'occhio sereno della ragione il mondo doloroso degli uomini può apparire un inferno ma l'immaginazione umana non è caratis perché possa impunemente esplorarne abisso per abisso purtroppo non si può considerare tutta immaginaria la triste legione dei terrori sepolcrali ma se non vogliamo che ci divorino bisogna lasciare che dormano come i demoni in compagnia dei quali Afrasib discese nell'oxus bisogna lasciare che dormano o siamo destinati a perire a perire grazie a te Grazie a tutti.